Quello che è emerso è che la comunicazione è fondamentale, ma un po' per tutti gli ambiti. Quando non si conosce, la popolazione poi ha apprensione rispetto a un rischio. E quindi l'importanza è quello proprio di avvertire gli amministratori e i cittadini su come ci si deve comportare nel caso di un rischio che è assolutamente molto, molto basso. Qualche volta nel mondo c'è qualche collasso di diga, ma è veramente estremamente basso questo rischio. Però è vero che quando succede genera nei cittadini una certa apprensione. Quindi è importante informarli, è importante informare su come bisogna reagire perché la prevenzione e soprattutto si risolvono le questioni più di difficoltà nei momenti di pace, nei momenti in cui queste difficoltà non ci sono.